Ciao ragazzi, video un po' di verso il normale, oggi parleremo di finanza personale, specificamente il budgeting. Questa è una cosa che sull'Instagram che ho appena, diciamo, aperto, che sta pompando di brutto, avete iniziato a chiedermelo, tante cose. Vedo che in Italia siete molto ludopatici, la cosa mi sta facendo veramente paura, ma alcune persone stanno capendo un po' il mio messaggio. Ragazzi, tutti parlano sempre di investire qui, investire là, rischiare i soldi, rischiare questo, rischiare quello. Nessuno parla delle basi. Ragazzi, il primo skill da imparare, chiunque tu sia, che tu sia Jeff Bezos o così, e Jeff Bezos viveva anche lui così, è il budgeting. Partire da un budget. Se tu non hai la disciplina di mettere i soldi da parte, tu non avrai la disciplina, manco col cazzo, di andare a investire in giro in qualsiasi altra cosa. Perché se tu sai, diciamo, rimanere attaccato a un budget, o perlomeno rispettare quello che tu ti metti come obiettivo, allora anche in investimenti, quando si tratta di guardare a lungo termine, con le fluttuazioni, di provare qualcosa di più rischioso o meno rischioso, almeno lì avrai più disciplina per poter, diciamo, sopravvivere le tempeste della volatilità, volatilità, scusatemi in italiano, del mercato di qualsiasi cosa, che sia il bitcoin, che sia il crypto, che siano le azioni, che sia l'immobiliare, che siano le obbligazioni, quel cazzo che ti pare. Detto ciò, iniziamo, ragazzi. Oggi parleremo di una regola famosissima in America, si chiama la regola del 50-30-20%. Che cosa sono queste percentuali e cosa rappresentano? Il concetto è molto semplice. Tu hai tre blocchi principali in un budget, cioè quello che ti serve per vivere, o perlomeno per sopravvivere, per rimanere in vita per i prossimi 80 anni. Hai poi dopo gli wants, le voglie, quelle minchiatine, gli sfizi di cui ti vuoi, diciamo, sbarazzare, che vuoi fare ogni singolo mese. E poi il rainy day fund, cioè quel fatto del mettere da parte qualcosa che è una cosa molto italiana. Io parlo sempre della formichina, ma appunto è una cosa molto italiana. Siccome siamo scettici in qualsiasi cosa nella vita, il concetto del mettere da parte perché non si sa mai. Che può essere sia il non si sa mai, ma può essere anche il investiamo in qualcosa così non li parcheggiamo e basta, perché a parcheggiarli, come vi ho visto in ultimi due anni, lo Stato ci può fottere i soldi con l'inflazione. Ragazzi, iniziamo. Ora vi faccio vedere un paio di esempi, molto, anzi, prima di farvi vedere un paio di esempi, no, sì, facciamo vedere un paio di esempi, record. Eccoci qua. Qui abbiamo tre esempi diversi. Partiamo col più semplice, ragazzi, il 50, 30 e 20. Noi prendiamo lo stipendio medio di 1.500 euro al mese, che sarebbe meglio netto che a una persona, e poi iniziamo a splittarlo in queste percentuali. Ragazzi, nella prima parte, quello che ci serve per vivere, i needs, come li chiamo in America, abbiamo la casa, vitto alloggio, cibo, bollette, trasporto, tu devi comunque andare al lavoro, è un must, che sia la metro, che sia la macchina, che sia il motorino, comunque quello deve essere all'interno dei needs, quello che ti serve. Altro, forse il telefono, se proprio ci vogliamo aggiungere, se sei in America l'assicurazione sanitaria, se ti serve un'assicurazione sanitaria integrativa, allora la metterei comunque qua, e tutte quelle cose piccole che magari servono soltanto a te, che sono un po' più o meno generali, io le metterei nei needs, quello che ti serve per vivere. Numero due, parliamo del uscire, parliamo del, diciamo, andare al ristorante, parliamo del comprarsi una borsetta di Gucci, parliamo di andare a ballare, diciamo che sia un'attività, che sia una vacanza, che sia shopping, che sia una di queste cose qui, questa fa parte della seconda categoria, che sono i wants, quello che ci piace, può essere anche a Lamborghini, se sei ricco, sti cazzi, e qui ce lo chiamo un 30%, quindi se nella prima fraction, il 50%, i needs, avevamo 750 euro su 1.500, qui ne abbiamo 450, diciamo, che sono il 30% dei, diciamo, wants. E poi quello che rimane, che sono gli ultimi 300, sono il cuscino e investimenti. Questo sarà magari un altro video, ma già ve lo dico, che cos'è il cuscino? Io, perlomeno, anche il motivo per il quale ho iniziato a fare TikTok e l'imprenditore, io mi sono sempre messo da parte, inizialmente sei mesi, ma poi l'ho fatto diventare due anni di costi della vita, se io non faccio un cazzo ci posso sopravvivere, bare minimum, e appunto quello mi hanno permesso di prendere questi rischi imprenditoriali, perché sapevo che se tutto va male, io posso fare zero per i prossimi due anni, e sto a posto. E quindi, all'inizio, quando avevo appena iniziato, io prima ho riempito questo cuscinetto di sopravvivenza, e poi proprio tutto quello che rimaneva ho iniziato a investirlo in quello che volevo. Quindi la cosa principale, iniziale da fare, è avere quei soldi sotto il materasso, tra virgolette, questa è la metafora, non dico di farlo, perché l'ultima, forse, io non metterò mai i soldi sotto il materasso, mortacci di pippo, ma conosco gente che l'ha fatto. E appunto, il cuscinetto è sempre buono averlo, ma poi iniziare a capire un po' cosa fare con quei soldi. E questo, diciamo, è la regola generale. È molto semplice, non è molto complicato, se già riesci a rispettare questo, sei la grande, perché devi considerare che mediamente un italiano riesce a mettere a parte tra il 7 e il 10% del proprio salario, quindi in questo caso tu riesci a mettere a parte il doppio, e un americano solo il 4, quindi se tu riesci a fare questo, tu sei più ricco di molti americani, sei più disciplinato e puoi fare molto di più. Passiamo al secondo step. Ora ragazzi, questo video è dedicato a tutti, no? Quindi questa prima regola è un po', diciamo, più generale, è un po' più fattibile per tutti. La seconda, metti in caso sei più giovane, vivi ancora i genitori, oppure hai costi ancora più bassi, hai un roommate, vivi con qualcuno, magari puoi anche splitare la cosa. Ricordiamoci che più riesci a mettere da parte, e più, diciamo, puoi arricchirti velocemente a lungo termine, perché poi, alla fine di questo video, vi farò vedere anche la differenza di capitale accumulato e cresciuto nell'arco di 42 anni di lavoro sul lungo attare, e lì vedete la differenza che può fare una piccola modifica del tuo budget. In questo caso noi switchiamo. Metti in caso che lavori con gente, che vivi con gente, quindi i tuoi costi della vita sono più bassi, metti in caso che affitti l'appartamentino di tua madre e lei ti fa uno sconto, questo può essere una cosa buona. Quindi tu dedichi il 20% del tuo budget a i needs, il 30% è wants, e il 50% a mettere da parte e investire. In questo caso abbiamo 300, 400 e 750. E l'ultimo, ragazzi, vivi ai tuoi genitori tutto pagato, botta di culo, lavori e metti da parte, ma ti vuoi anche divertire. Questo è un classico per molti italiani che vivono nelle città, e sì, più di quanto pensate, perché è molto normale, in un mondo dove tutto quanto costa un botto, i salari non sono alti, può succedere molto spesso. Io ho amici che hanno iniziato così, e ancora stanno così, all'età di 26-27 anni, e si può fare, in questo caso, io toglierai direttamente i needs, o quel poco che c'è di needs, adesso l'ho fatto estremo, abbiamo messo 30% di wants, e 1050 da mettere da parte e investimenti. La domanda è, tra questi tre, qual è la differenza a lungo termine? Io parlo sempre di S&P 500 quando si parla di investimenti, perché lo uso un po' come standard. Non deve essere il tuo standard. Questo semplicemente, a mia opinione, non è consiglio finanziario. Quindi fate la vostra ricerca, scegliete un po' voi qual è il vostro standard. Per me però lo standard è l'S&P 500, che storicamente, negli ultimi 50 anni, ha reso il 10% annuo, tra il 9 e il 12% anno. E in questo caso, se noi rispettiamo queste regole, senza pensare al cuscinetto, investiamo tutto quello che mettiamo da parte, qual è la differenza di ricchezza accumulata su 42 anni di lavoro, sempre con lo stesso stipendio di 1500 euro al mese? Che lo so, non è possibile, ma voglio anche calcolare queste cose qui. Cioè, qui vedete una differenza sostanziale, immaginatevi se puoi considerare anche la crescita del tuo salario, man mano che cresci all'interno dell'azienda. Fatto sta che il primo, quindi il 50-30-20, su 42 anni, al 10%, ha creato, con quei 200 euro al mese, sì, 300 euro al mese, una ricchezza di quasi 2 milioni di euro. Il secondo, mettendone da parte 7,50, su 42 anni, ha creato una ricchezza di 4,879 milioni di euro, che equivale a una pensione, o un, diciamo, fondo secondario per fare soldi, di 487 mila euro annui. Invece il terzo, ragazzi, su 42 anni, ha creato una ricchezza di quasi 7 milioni di euro. E questa appunto è la differenza, a lungo andare, soprattutto se sei disciplinato, all'inizio, per il lungo termine. Qui ragazzi, stiamo parlando di uno stipendio di 1500 euro al mese, cioè un cazzo, ok? E questi sono i numeri che potresti fare, allunguantare, se sei una persona disciplinata, senza neanche considerare una crescita. Queste sono formule matematiche, quindi è matematica, non è un'opinione. L'unica opinione è, diciamo, assumersi, assumere che tu avrai il 10% sull'S&P 500 per i prossimi 42 anni, che mediamente, così è fatto storicamente, ma la storia non può promettere il futuro. Non puoi promettere questo, perché non c'hai una sfera che ti dice tutto quello che succede. Ragazzi, questo spero che vi abbia un po' aperto gli occhi. Ripeto, prima di parlare di investimenti, prima di capire un po', mettere i soldi qui, mettere i soldi lì, la prima cosa che ti serve è una base, è una foundation. Nessun me la foundation principale, quando si tratta di disciplina, approccio, imparare, curiosità, e mantenersi, cioè avere un po' di, noi diciamo, accountability, ok? Mantenersi responsabili sulle proprie promesse, che potrebbe essere il budget, è la base, una delle basi migliori da avere, quando poi si tratta di imparare, iniziare a studiare su dove investire i propri soldi. Ragazzi, da qui dico qua, se vi piace quello che faccio, lasciate un like e subscribe, e se avete domande su di questo, lasciate un commento, perché anche questo video qui, che è nato da un commento di Instagram, probabilmente il prossimo commento vostro, potrebbe farne nascere un altro di video. Grazie mille.